Sono iniziati a Sapri i lavori per rattoppare le strade. L'intervento in corso interesserà tutte le vie che anni fa furono danneggiate dagli interventi di adeguamento della rete fognaria. Le opere di rifacimento della rete viaria cittadina coinvolgerà almeno 10 diverse aree del centro urbano. Le vie Gaetani, Marinella, Carducci, Falcone e Kennedy sono solo alcune di quelle destinate al rifacimento del manto stradale. Un intervento atteso da tempo dalla popolazione locale stanca di dover affrontare con grossi disagi, con bici, auto, passeggini e sedie a rotelle, le buche che rendono insicure strade principali e periferiche della città. In diversi casi sono state cause di incidenti che hanno costretto il comune al risarcimento danni. Tra i feriti, a causa delle strade dissestate, anche alcuni pedoni che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari ospedalieri. I lavori avviati per l'adeguamento del manto stradale sono coperti da un vecchio fondo che si aggira attorno ai 140.000 euro. L'amministrazione ha già candidato a finanziamenti nuovi progetti per la messa in sicurezza delle strade urbane rimaste fuori dalle opere in corso.